L'ho appena presa, adesso staremo attenti come lo eravamo prima, forse qui con più attenzione perché se dovesse, adesso qui non è in ballo il Palermo ma è praticamente eventualmente un'operazione che riguarda direttamente il protone calcio. Stavo leggendo il messaggio che sono stati deferiti. Sì, tra l'altro la cosa forse più pesante è che c'è la responsabilità diretta e oggettiva per cui finita la riunione, finita la conferenza stampa, vedremo cosa farsi. Sembra con l'ansia, non è una cattiva notizia. Bisogna portare lo stadio a 16.000, Presidente. Ma quello sicuramente. Niente, adesso approfondiremo la notizia.